Andale andale! Ho ho ho! Adi ho di ho di ho di ho di ho di ho di salve a tutti i watchig barri benvenuti in un nuovo video basato su Spongebob Squarepants Ragazzi vi ricordate quando vi ho parlato di The Patrick Star Show? Ebbene gente oggi invece la protagonista di questo video e anche di un progetto molto importante che arriverà prossimamente è Sandra Sandy Chicks la scogliattola che proviene dal Texas che per stare sott'acqua deve usare una tuta l'astronauta subacqua ed è la miglior amica di Spongebob Squarepants apparsa la prima volta nell'episodio te sotto l'albero della prima stagione nel lontano 1999 Sì ragazzi allora Sandy Chicks è un personaggio che io ho sempre apprezzato tantissimo è una scienziata, è fortissima, lei è un grande spirito animalesco, è intelligente, furba, a volte un po' meschina e mi piace molto di più di Patrick come ben sapete io ritengo che The Patrick Star Show sia uno spin off inutile che l'hanno fatto solamente per i fan e solo perché Patrick è il coprotagonista di Spongebob e basta e Sandy in molte situazioni non ha mai avuto una grande opportunità ma perché a volte Sandy è un personaggio spesso secondario nel creato animato, l'avete notato? ma ragazzi, sì, la Nickelodeon sta producendo il film di Sandy sì, ragazzi è confermato, uscirà la produzione è stata il 20 maggio del 2021 quindi sicuramente hanno già registrato varie cose e voglio dirvi qualche notizia in più a quanto pare il film sarà sia animazione 2D, quindi nel creato animato potrebbero esserci anche momenti live action o addirittura animazione digitale io ragazzi non so cosa aspettarmi da questo film di Sandy sicuramente molti penseranno ah vabbè dai un altro spin off di Spongebob ma che palle, che schifo sapete secondo me Sandy lo merita uno spin off su di lei di Sandy sappiamo solamente che è del Texas è una grande cowgirl sa usare il lazo è molto agile il karate lo sa a memoria e secondo me ci sono molte carte in regola che si possono sfruttare per fare questo film The Patrick Star Show non funziona per niente perché Patrick nel carto animato l'abbiamo già visto milioni di volte mentre Sandy come ho detto prima è più un personaggio secondario invece di uno dei principali secondo me potrebbe anche starci bene forse la trama vedrà la nostra Sandy tornare veramente nel Texas per salvare la sua famiglia non ne idea sarà basato sul Texas sicuramente sì non lo so ragazzi apriranno anche tipo dei personaggi strani tipo Sandy Lego o Sandy in qualche altro modo non ne ho idea ragazzi perché è un film che ancora non sappiamo proprio un bel niente ma sì Nickelodeon ha confermato che ci sarà il film di Sandy ancora non lo so benissimo se faranno una serie tv su Squiddy ho capito che è stata cancellata non ne ho idea però boh magari rivedremo Sandy mostruosa maligna non ne ho idea ragazzi secondo voi è una buona idea fare un film su Sandy può essere interessante di più di Cam Corral e The Patrick Star Show oppure no dimmi nei commenti cosa ne pensate Sandy è il mio secondo personaggio più vinto di Spongebob può anche essere divertente è un personaggio che mi ha sempre divertito mi piace tantissimo la doppiatrice italiana ecco qua ragazzi il film di Sandy sta per arrivare non so ancora se quest'anno il prossimo nel 2023 vedremo ok